Oggi portiamo al mare 5 dei cani tratti in salvo dal canile Parrelli. È una giornata stupenda per noi perché è il segno della felice conclusione del percorso di recupero. Sono stati quindi riabilitati alla vita, ora non hanno più paura di interagire con gli uomini, non hanno più paura di interagire con gli altri cani e sono pronti per essere inseriti in famiglia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.